Alta velocità, poca visibilità e pericoli per automobilisti, ciclisti e pedoni. Dopo l'email inviata al comune di Fano nel 2020 da parte dei residenti che avevano segnalato la pericolosità della rotatoria di via Moriconi, il segretario dell'Udc Stefano Pollegioni si era interessato alla problematica contattando varienti. Mi sono attivato, ho visto sul posto realmente come stavano le cose, ho mandato subito una segnalazione al sindaco e per conoscenza al prefetto. Purtroppo dal sindaco non ebbi nessuna risposta per cui sono andato avanti, ho interessato l'assessorato competente facendo delle richieste con un'istanza di accesso agli atti e l'assessorato mi ha subito risposto dicendomi che la strada era ancora in possesso alla Società Autostrade per l'Italia che l'aveva costruita in un accordo per le opere compensative della terza corsia dell'autostrada. Dopo diverse telefonate e un passaggio di documentazioni ha proseguito il segretario, è arrivata la risposta di Società Autostrade la quale certifica che quel tratto aperto dal 2019, il 24 ottobre scorso, ha ottenuto il collaudo tecnico-amministrativo. In virtù di questo collaudo la strada è passata di proprietà all'amministrazione comunale di Fano. Quindi a questo punto dico all'amministrazione comunale di Fano che non ci sono più scuse, quindi chiedo che vengano emessi dei provvedimenti, degli accorgimenti lungo quel percorso per evitare incidenti gravi sulla rotatoria di Rosciano alla fine di via Moriconi. Però entra anche in AUG il vecchio discorso legato agli attraversamenti pedonali e ai percorsi ciclopedonali che non sono stati fatti ai tempi quando l'opera era ancora in costruzione, quindi in fase di opera che si sarebbero potuti fare a spese della Società Autostrade, mentre invece adesso sono a spese dell'amministrazione comunale. Sono opere urgenti, ha ribadito Polegioni, che ha sottolineato la necessità di tutelare i residenti che vogliono attraversare la strada o percorrere in sicurezza quel tratto per raggiungere gli altri quartieri della città. Naturalmente come Udc mi sento di fare una nostra proposta, le barriere antirumore ostruiscono per chi viene da via Papini la visibilità a sinistra, quindi quelle andrebbero in qualche modo o tolte o sostituite con dei trasparenti e chi viene da via Moriconi quando arriva lo stop a causa della strada invitante per la velocità e la distrazione succede spesso che vanno dritti e possono andare a collidere con chi si mette sulla rotatoria. Lì andrebbe forse posto un segnale di stop luminoso e dei piccoli dossi a terra.